Tra le colline della Spagna, un palazzo di granito domina il paesaggio con la sua mole. Qui un re innalza un baluardo della fede cattolica e un monumento al terrore. Da dietro le sue mura, Filippo II guida la Spagna in un viaggio fatidico, che può condurre alla gloria o alla rovina. Qui, nel palazzo dell'Escoriale. Dal cuore della Spagna, le preghiere risuonano come rintocchi, così come hanno fatto per 300 anni. Ogni giorno, sgorgono da un monastero incastonato tra le montagne della Sera de Guadarrama. Sono preghiere per un'anima, per l'anima di un re sepolto sotto una lapide di marmo, accanto alla sua famiglia. Il suo nome è Filippo II. La Spagna lo considera un santo, ma per metà del mondo è un diavolo. Sopra il suo panteon familiare si erge l'opera della sua vita, un palazzo reale che, a detta di alcuni, divenne una tana di mostri, il monastero dell'Escoriale. Fu edificato in un'epoca in cui l'uomo iniziava a cercare la propria fede e sul suo cammino si interpose un re. Nel corso del XVI secolo, i domini spagnoli si estendono per tutta l'Europa, oltre alle colonie conquistate in America e in Asia. È un impero su cui non tramonta mai il sole. È un regno cattolico. Per mantenerlo tale, Filippo utilizza tutto il potere della Chiesa di Roma e, se necessario, ricorre allo strumento dell'inquisizione spagnola. I suoi nemici, i musulmani, gli ebrei e i più vili eretici, i cristiani protestanti, che rifiutano l'autorità papale. Quando era un giovane principe, Filippo amava assistere alle esecuzioni pubbliche degli atei. Era una passione ereditata dal suo adorato padre, il sacro imperatore romano Carlo I di Spagna e V di Germania. Quando la vecchiaia lo costrinse ad abdicare, Carlo chiese solo due cose al figlio. La prima, di continuare a lottare contro l'eresia fino alla morte. La seconda, di costruire un grandioso mausoleo per i reali spagnoli. Filippo promise di esaudire i desideri del padre. Nel 1561 si recò sulle colline di granito sovrastanti il villaggio di minatori dell'Escorial. Il nome significa mucchio di scorie, ma il re si apprestava a trasformare il villaggio in quella che molti hanno definito l'ottava meraviglia del mondo. Da questo trono di pietra, Filippo guarda innalzarsi il mausoleo della sua famiglia. Ma ora progetta qualcosa di molto più grandioso di ciò che gli ha chiesto il padre. Filippo vuole un monastero gigantesco, non solo un mausoleo, bensì una basilica, una biblioteca e un palazzo. Si utilizzano circa un milione di tonnellate di granito per realizzare l'opera più imponente del mondo, con le sue quasi 2000 stanze e i suoi 104 chilometri di corridoi. In due anni, i monaci diventano i primi abitanti dell'Escorial. Il re li autorizza ad amministrare il monastero in piena libertà, ma a due condizioni. Che preghino ogni giorno per le anime della famiglia reale e che custodiscono il loro tesoro più prezioso, le ossa dei santi cattolici. Le sacre reliquie sono una delle principali passioni di Filippo. La sua collezione di 7000 ossa è la più grande del mondo. Si dice che Filippo possedesse reliquie dei dodici apostoli e della croce su cui Cristo fu crocefisso. Il re, inoltre, dedicò il monastero a un martire cristiano perseguitato dai romani. Il suo nome era San Lorenzo. Filippo credeva che il suo spirito lo avesse aiutato a vincere una battaglia cruciale. Alcuni però ritengono che, in realtà, ad affascinare il re fosse il modo in cui il martire fu giustiziato. Lorenzo era stato arso vivo su una graticola. Il motivo della graticola è presente in ogni angolo del palazzo. Di fatto, è ciò che caratterizza il progetto di tutto l'edificio. Non è possibile confondere l'escorial con un luogo di svago. È piuttosto il simbolo della forza spirituale della guerra contro l'eresia. E in questo senso, il peggior nemico per il re è l'Inghilterra protestante. Dal 1533, l'Inghilterra è una nazione proscritta, dopo essersi scissa da Roma per creare la sua chiesa. In quell'epoca, un'eretica protestante sale sul trono inglese, Elisabetta I. Filippo vuole deporla. Benché il suo paese sia debole, Elisabetta lo sfida. Non temo il re di Spagna. Sarò la regina d'Inghilterra finché avrò vita. Nel 1567, Elisabetta organizza il suo piano. Manda danaro e armi per sostenere il crescente numero di protestanti presenti nell'estremità settentrionale dell'impero, i Paesi Bassi Spagnoli. La risposta di Filippo è immediata. Sfoga la sua ira per l'intromissione della regina, inviando una truppa di 10.000 uomini e la santa inquisizione. L'insurrezione è subito soffocata. Il re di Spagna crede di seguire la tradizione degli antichi re di Israele che adorano il cortile interno dell'Escorial. Uno di loro, Salomone, noto per la sua saggezza. L'altro, Saul, per il suo coraggio. Ma Filippo dimentica la lezione più importante che dovettero imparare gli israeliti. Malgrado tutto il loro potere e la loro sapienza, alla fine il loro regno venne distrutto. Quando Filippo costruisce la sua residenza all'interno dell'Escorial, raccomando umilmente ai suoi architetti. Per Dio un palazzo, per me una capanna. Quella che lui chiama la casa del re, si estende timidamente dietro al palazzo. La sua semplicità è pari all'austerità della costruzione edificata per i monaci. Come le cele dei religiosi, anche le stanze del re sono progettate per la contemplazione. Sono tempi difficili e il re ha molto a cui pensare. Corre voce che l'Inghilterra invierà altre armi ai ribelli olandesi. Nel mondo di Filippo, una guerra contro il male esige sacrifici e sofferenza, una lezione inesorabile come quella che impartiscono il cielo e l'inferno. Il re si circonda di splendide opere d'arte e rinfranca il suo spirito per riprendere la lotta. Ma non è un uomo dai gusti raffinati. E tutta l'arte deve adattarsi alle sue esigenze. Il pittore il greco si vede rifiutare il martirio di San Maurizio, ritenuto non abbastanza esplicito. Filippo ammette solo un'eccezione segreta, l'opera sottilmente oscena di Hieronymus Bosch, il giardino delle delizie, conservata nelle sue stanze private, da cui è bandito ogni altro elemento decorativo. Il resto del suo alloggio differisce poco dalle celle dei monaci. Il suo trono è uno sgabello utilizzato dal padre nelle spedizioni militari. Filippo preferisce governare il suo vasto impero da questo minuscolo studio. Si mostra poco incline a delegare le responsabilità. I suoi consiglieri lo chiamano il capo ufficio dell'impero spagnolo, in quanto firma assiduamente circa 400 documenti al giorno. Si occupa personalmente sia delle questioni importanti, sia di quelle insignificanti. Dall'oro, alle truppe per i Paesi Bassi, alle futili indicazioni sul colore della divisa dei suoi servitori. La sua attenzione si concentra sull'edificio delle Scoriale. Un costante rifornimento di oro proveniente dalle colonie americane finanzia il più costoso dei suoi progetti. Ma nel 1577 l'Escoriale riceve un duro colpo. Un fulmine si abbatte sulla torre sud-ovest, provocando un incendio nel tetto quasi terminato. Colate di metallo fuso scendono dai muri del monastero. La ricostruzione è ostacolata da una nuova preoccupazione che ha origine a centinaia di chilometri di distanza. Ancora una volta è la regina Elisabetta a intralciare i piani di Filippo. I pirati inglesi, al comando di Francis Drake, assaltano le navi spagnole cariche dei tesori dell'America nel loro viaggio attraverso l'Atlantico. Il fiume d'oro che scorre verso la Spagna assomiglia sempre più a un misero rigagnolo. Furioso, Filippo convoca presso la sua dimora l'ambasciatore inglese, il quale, di fronte alla collera del molarca, risponde in modo evasivo. Il re mormora spazientito a un consigliere. Sarà meglio cacciare quest'uomo prima che si macchi di un'impertinenza più grave che ci obblighi a arderlo sul rogo. Mentre l'ambasciatore fugge spaventato, Filippo matura l'idea di bruciare qualcosa di più grande, niente meno che l'Inghilterra. Protetta dal canale della Manica, la Gran Bretagna, isola di eretici, è fuori dalla portata di Filippo. In Spagna, i protestanti non rappresentano la benché minima minaccia. L'inquisizione e il rogo hanno eliminato ogni possibile forma di eresia. Dalle Scorial, il re governa i suoi sudditi come un pastore e il suo greggio è mansueto. La censura e la propaganda li mantengono sotto il suo controllo. Il dominio esercitato da Filippo sulla chiesa trasforma ogni prete in una spia e rende il re partecipi di ogni confessione. Quanto agli eretici, che non può eliminare, li studia nella Biblioteca Reale, situata nell'ala più sfarzosa del monastero. Sugli affreschi dipinti da Pellegrino Tibaldi si esaltano le arti e le scienze liberali. Ma i propositi di Filippo per questa sala sono tutt'altro che liberali. Qui un gruppo di monaci di fiducia aiuta il re a conoscere i suoi nemici per mezzo delle opere di eretici. Tra i 40.000 attesti religiosi della Biblioteca si trovano i trattati di esponenti sovversivi del calibro di Martín Lutero o Giovanni Calvino. Questo intenso studio ha uno scopo. Allo stesso modo in cui la cupola celestiale della Biblioteca ha la Terra come centro dell'universo, così il re vuole mantenere la Chiesa di Roma al centro del mondo. Ma qualcuno ostacola i suoi progetti. Elisabetta d'Inghilterra. Filippo confida a un consigliere. I rapporti con l'Inghilterra si avviano verso un punto in cui forse sarà necessario costringere con la forza la regina a fare quello che si rifiuta di fare per mezzo della ragione. Solo l'Escorial placa l'Eire di Filippo. Nel 1585 dopo 24 anni di duro lavoro l'opera è quasi conclusa. Gli operai sono ormai arrivati alla grande cupola della Basilica. È leggermente più piccola di quella di San Pietro a Roma come chiaro segnale di sottomissione al Vaticano. Con i suoi oltre 90 metri di altezza la cupola sovrasta nettamente l'edificio. All'interno terminano le analogie con la sontuosa Basilica romana. Il Tempio di Filippo è una struttura di granito austero decorato unicamente da freschi barocchi. Nonostante le sue dimensioni la chiesa è riservata esclusivamente alla corte reale. Il popolo può assistere alla messa ma dietro le sbarre di una porta di bronzo. Tutti gli occhi sono puntati verso l'unico elemento ornamentale della chiesa l'altare maggiore. Situato su quattro gradini di marmo e di aspro, rame e oro l'altare maggiore si erge come cuore delle scoriale e come simbolo e come simbolo della missione della vita di Filippo. Questa missione sta raggiungendo il suo momento culminante. Nel corso degli ultimi due anni gli armatori reali hanno costruito lungo la costa spagnola un'armata gigantesca. 130 navi per trasportare 30.000 soldati spagnoli la più imponente forza navale mai riunita prima. Il suo obiettivo conquistare l'Inghilterra. Il piano di Filippo prevede una volta lì di detronizzare Elisabetta a favore della cugina cattolica di questa la regina Maria di Scozia. Ma i disegni del re sono presto sconvolti. Elisabetta scopre il complotto di Filippo ed elimina il pericolo facendo decapitare la sua rivale Maria Stuarda. Filippo si infuria e giura vendetta. Nel 1588 richiede la celebrazione di una messa speciale. Nelle sue stanze private situate vicino all'altare maggiore cerca la benedizione divina per la decisione più importante della sua vita. Il tempo dell'attesa è finito. Filippo ordina la flotta di salpare. Ora morta Maria dichiara dichiara che sarà lui stesso a sedersi sul trono d'Inghilterra. Filippo proclama la sua armata invincibile. È giocoforsa che lo sia. Quando le sue navi prendono in largo portano con sé il destino del regno. L'invincibile armata va incontro alla tragedia. Una tempesta affonda le navi di Filippo. La maggior parte della flotta naufraga di fronte alle coste inglesi. Il mare è disseminato di cadaveri spagnoli. I superstiti che riescono a raggiungere la riva vengono uccisi dai contadini irlandesi. Le prime notizie giungono al monastero dell'Escorial solo dopo alcune settimane ed escrivono il successo glorioso delle navi spagnole che attraversano Londra avanzando sul Tamigi. Più tardi la crudele verità. dei 30.000 soldati ne sono sopravvissuti 10.000. Ho mandato le mie navi a lottare contro degli uomini grida il re non contro gli elementi. per la Spagna è una crisi definitiva il costo dell'armata ha svuotato le casse del regno la sua sconfitta fa crollare il prestigio della Spagna ma non la determinazione di Filippo ne nei 10 anni successivi il re invia altre tre spedizioni contro l'Inghilterra tutte fallimentari e allora accade la cosa più impensata le navi britanniche attaccano le coste spagnola nel 1598 un Filippo ormai esausto è costretto a letto dalla gotta nella residenza dell'Escorial giace immobile nella sua stanza contigua l'altare il dolore delle ferite aperte è alleviato solo dai salmi cantati in suo onore languisce per un mese alla fine il re Filippo secondo di Spagna muore in una tiepida notte di settembre in definitiva Filippo non riuscì a esaudire i desideri di suo padre oltre a fallire nell'intento di difendere la fede cattolica in tutto l'impero non terminò neppure il mausoleo familiare le acque sotterranee impedirono la costruzione della cripta i suoi successori cercano di completare il mausoleo ma per diversi anni l'escoriale non poteva cogliere i reali spagnoli il suo gelido granito era un amaro ricordo del funesto regno di Filippo e della caduta dell'impero infine gli ingegneri riuscirono ad asciugare le fondamenta dell'escoriale nel 1654 la cripta venne completata il desiderio di Carlo V si era finalmente realizzato anche se con uno stile piuttosto diverso da quello concepito dall'ombroso Filippo il freddo granito fu sostituito da marmo oro e rami tra tanto splendore riposano quattro generazioni di monarchi sotto monumento di granito alla pietà di un re e all'impero sacrificato in nome di Dio dal cuore della Spagna le preghiere risuonano come rintocchi così come hanno fatto per 300 anni ogni giorno sgorgono da un monastero incastonato tra le montagne della sera di Guadarrama sono preghiere per un'anima per l'anima di un re sepolto sotto una lapide di marmo accanto alla sua famiglia il suo nome è Filippo II la Spagna lo considera un santo ma per metà del mondo è un diavolo sopra il suo pante un familiare si erge l'opera della sua vita un palazzo reale che a detta di alcuni divenne una tana di mostri il monastero dell'Escorial fu edificato in un'epoca in cui l'uomo iniziava a cercare la propria fede e sul suo cammino si interpose un re nel corso del XVI secolo i domini spagnoli si estendono per tutta l'Europa oltre alle colonie conquistate in America e in Asia è un impero su cui non tramonta mai il sole è un regno cattolico per mantenerlo tale Filippo utilizza tutto il potere della chiesa di Roma e se necessario ricorre allo strumento dell'inquisizione spagnola i suoi nemici i musulmani gli ebrei e i più vili eretici i cristiani protestanti che rifiutano l'autorità papale quando era un giovane principe Filippo amava assistere alle esecuzioni pubbliche degli atei era una passione ereditata dal suo adorato padre il sacro imperatore romano Carlo I di Spagna e V di Germania quando la vecchiaia lo costrinse ad abdicare Carlo chiese solo due cose al figlio la prima di continuare a lottare contro l'eresia fino alla morte la seconda di costruire un grandioso mausoleo per i reali spagnoli Filippo promise di esaudire i desideri del padre nel 1561 si recò sulle colline di granito sovrastanti il villaggio dei minatori dell'Escorial il nome significa mucchio di scorie ma io sul trono inglese Elisabetta prima Filippo vuole deporla benché il suo paese sia debole Elisabetta lo sfida non temo il re di Spagna sarò la regina d'Inghilterra finché avrò vita nel 1567 Elisabetta organizza il suo piano manda danaro e armi per sostenere il crescente numero di protestanti presenti nell'estremità settentrionale dell'impero i paesi bassi spagnoli la risposta di Filippo è immediata sfoga la sua ira per l'intromissione della regina inviando una truppa di 10.000 uomini e la santa inquisizione l'insurrezione è subito soffocata in nome di Dio dichiara Filippo perderò tutti i miei possedimenti e periranno centinaia di uomini ma non sarò mai un sovrano di eretici il re di Spagna crede di seguire la tradizione degli antichi re di Israele che adorano il cortile interno dell'Escorial uno di loro Salomone noto per la sua saggezza l'altro Saul per il suo coraggio ma Filippo dimentica la lezione più importante che dovettero imparare gli israeliti malgrado tutto il loro potere e la loro sapienza alla fine il loro regno venne distrutto quando Filippo costruisce la sua residenza all'interno dell'Escorial raccomando umilmente ai suoi architetti per Dio un palazzo per me una capanna quella che lui chiama la casa del re si estende timidamente dietro al palazzo la sua semplicità è pari all'austerità della costruzione edificata per i monaci come le celle dei religiosi anche le stanze del re sono progettate per la contemplazione sono tempi difficili e il re ha molto a cui pensare corre voce che l'Inghilterra invierà altre armi ai ribelli olandesi nel mondo di Filippo una guerra contro il male esige sacrifici e sofferenza una lezione inesorabile come quella che impartiscono il cielo e l'inferno il re si circonda di splendide opere d'arte e rinfranca il suo spirito per riprendere la lotta ma non è un uomo dai gusti raffinati nel 1588 richiede la celebrazione di una messa speciale nelle sue stanze private situate vicino all'altare maggiore cerca la benedizione divina per la decisione più importante della sua vita il tempo dell'attesa è finito Filippo ordina la flotta di salpare ora morta Maria dichiara che sarà lui stesso a sedersi sul trono d'Inghilterra Filippo proclama la sua armata invincibile è giocoforza che lo sia quando le sue navi prendono in largo portano con sé il destino del regno l'invincibile armata va incontro alla tragedia una tempesta affonda le navi di Filippo la maggior parte della flotta naufraga di fronte alle coste inglesi il mare è disseminato di cadaveri spagnoli i superstiti che riescono a raggiungere la riva vengono uccisi dai contadini irlandesi le prime notizie giungono al monastero dell'Escorial solo dopo alcune settimane ed escrivono il successo glorioso delle navi spagnole che attraversano Londra avanzando sul Tamigi più tardi la crudele verità dei 30.000 soldati ne sono sopravvissuti 10.000 ho mandato le mie navi a lottare contro degli uomini grida il re non contro gli elementi per la Spagna è una crisi definitiva il costo dell'armata ha svuotato le casse del regno la sua sconfitta fa crollare il prestigio della Spagna ma non la determinazione di Filippo nei dieci anni successivi il re invia altre tre spedizioni contro l'Inghilterra tutte fallimentari e allora accade la cosa più impensata le navi britanniche attaccano le coste spagnole la maggior parte della flotta naufraga di fronte alle coste inglesi il mare è disseminato di cadaveri spagnoli i superstiti che riescono a raggiungere la riva vengono uccisi dai contadini irlandesi le prime notizie giungono al monastero dell'Escorial solo dopo alcune settimane ed escrivono il successo glorioso delle navi spagnole che attraversano Londra avanzando sul Tamigi più tardi la crudele verità dei 30.000 soldati ne sono sopravvissuti 10.000 ho mandato le mie navi a lottare contro degli uomini grida il re non contro gli elementi per la Spagna è una crisi definitiva il costo dell'armata ha svuotato le casse del regno la sua sconfitta fa crollare il prestigio della Spagna ma non la determinazione di Filippo nei dieci anni successivi il re invia altre tre spedizioni contro l'Inghilterra tutte fallimentari e allora accade la cosa più impensata le navi britanniche attaccano le coste spagnole nel 1598 un Filippo ormai esausto è costretto a letto dalla gotta nella residenza dell'Escorial giace immobile nella sua stanza contigua l'altare il dolore delle ferite aperte è alleviato solo dai salmi cantati in suo onore languisce per un mese alla fine il re Filippo II di Spagna muore in una tiepida notte di settembre in definitiva Filippo non riuscì a esaudire i desideri di suo padre oltre a fallire nell'intento di difendere la fede cattolica in tutto l'impero non terminò neppure il mausoleo familiare le acque sotterranee impedirono la costruzione della cripta i suoi successori cercarono di completare il mausoleo ma per diversi anni l'Escorial non poteva accogliere i reali spagnoli il suo gelido granito era un amaro ricordo del funesto regno di Filippo e della caduta dell'impero di oro proveniente dalle colonie americane finanzia il più costoso dei suoi progetti ma nel 1577 l'Escorial riceve un duro colpo un fulmine si abbatte sulla torre sud ovest provocando un incendio nel tetto quasi terminato colate di metallo fuso scendono dai muri del monastero la ricostruzione è ostacolata da una nuova preoccupazione che ha origine a centinaia di chilometri di distanza ancora una volta è la regina Elisabetta a intralciare i piani di Filippo i pirati inglesi al comando di Francis Drake assaltano le navi spagnole cariche dei tesori dell'America nel loro viaggio attraverso l'Atlantico il fiume d'oro che scorre verso la Spagna assomiglia sempre più a un misero rigagnolo furioso Filippo convoca presso la sua dimora l'ambasciatore inglese il quale di fronte alla collera del molarca risponde in modo evasivo il re mormora spazientito a un consigliere sarà meglio cacciare quest'uomo prima che si macchi di un'impertinenza più grave che ci obblighi a arderlo sul rogo mentre l'ambasciatore fugge spaventato Filippo matura l'idea di bruciare qualcosa di più grande niente meno che l'Inghilterra protetta dal canale della Manica la Gran Bretagna isola di eretici è fuori dalla portata di Filippo in Spagna i protestanti non rappresentano la benché minima minaccia l'inquisizione e il rogo hanno eliminato ogni possibile forma di eresia dall'Escorial il re governa i suoi sudditi come un pastore il suo greggio mansueto la censura e la propaganda li mantengono sotto il suo controllo il dominio esercitato da Filippo sulla chiesa trasforma ogni prete in una spia e rende il re partecipi di ogni confessione quanto agli eretici che non può eliminare li studia nella biblioteca reale situata nell'ala più sfarzosa del monastero sugli affreschi dipinti da Pellegrino Tibaldi si esaltano le arti e le scienze liberali in questo senso il peggior nemico per il re è l'Inghilterra protestante dal 1533 l'Inghilterra è una nazione proscritta dopo essersi scissa da Roma per creare la sua chiesa in quell'epoca un'eretica protestante sale sul trono inglese Elisabetta I Filippo vuole deporla benché il suo paese sia debole Elisabetta lo sfida non temo il re di Spagna sarò la regina d'Inghilterra finché avrò vita nel 1567 Elisabetta organizza il suo piano manda danaro e armi per sostenere il crescente numero di protestanti presenti nell'estremità settentrionale dell'impero i paesi bassi spagnoli la risposta di Filippo è immediata sfoga la sua ira per l'intromissione della regina inviando una truppa di 10.000 uomini e la santa inquisizione l'insurrezione è subito soffocata in nome di Dio dichiara in nome di Dio perderò tutti i miei possedimenti e periranno centinaia di uomini ma non sarò mai un sovrano di eretici il re di Spagna crede di seguire la tradizione degli antichi re di Israele che adorano il cortile interno dell'Escorial uno di loro Salomone noto per la sua saggezza l'altro Saul per il suo coraggio ma Filippo dimentica la lezione più importante che dovettero imparare gli israeliti malgrado tutto il loro potere e la loro sapienza alla fine il loro regno venne distrutto quando Filippo costruisce la sua residenza all'interno dell'Escorial raccomanda umilmente ai suoi architetti per Dio un palazzo per me una capanna quella che lui chiama la casa del re si estende timidamente dietro al palazzo la sua semplicità è pari all'austerità della costruzione edificata per i monaci come le celle dei religiosi anche le stanze del re sono progettate per la contemplazione sono tempi difficili e il re ha molto a cui pensare corre voce che l'Inghilterra invierà altre armi ai ribelli olandesi grazie a tutti